Quando io vedo due giovani, e siete veramente giovani, e così presentano all'altare, per consacrare la loro avventura di amore, questa famiglia che oggi nasce, che direi dai primi vagiti, che si lancia nell'avventura della vita, ecco allora, ecco siete qui davanti all'altare, con tutto il vostro amore, con tutta la vostra gioventù, con tutta la vostra fiducia, speranza, proiettati nell'avvenire, fondando tutto sulla fede. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.